Buongiorno, bentrovati, appuntamento con la nostra rassegna stampa di martedì 18 giugno 2019. Come sempre Mattino 6 si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dall'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro. La politica in primo piano, ecco il titolo in alto, nuova giunta, scontro tra i partiti, Pescara e Montesilvano fumata nera, ancora lite nel centro-destra. Poi la notizia di cui si è tanto parlato nelle ultime ore, la tragedia nel Bergamasco in cui ha perso la vita un carabiniere abruzzese di Sulmone, Emanuele Anzini, che proprio oggi avrebbe compiuto 42 anni, è stato travolto ed ucciso da un ubriaco. Oggi si terranno a Sulmona i funerali di Stato. Vediamo anche le notizie tornando a Pescara, Tangenti H, ecco i pagamenti all'ex presidente, Caramanico terme chiuse, grido d'aiuto dei lavoratori. Poi andiamo più in basso per parlare di sport, del miracolo dell'amatori Pescara, squadra di pallacanestro promossa in Serie A2, il racconto di questo miracolo nelle parole del tecnico Raiola. Vediamo anche la pagina del centro di Chieti Lanciano Vasto, la politica di primio firma la resa. Mi dimetto, salta il bilancio, il sindaco non ha più i numeri per governare ieri l'annuncio delle dimissioni in una conferenza stampa, poi vedremo il servizio. Vediamo anche le altre notizie, Bucchianico addio a Daniele, un paese intero scende in piazza per l'ultimo saluto al 24enne morto in un incidente stradale sabato notte. Vasto, la droga arriva con il pacco del Corriere e poi ancora da Vasto ad Ortona, Dune, stop agli ombrelloni in spiaggia. Lasciamo anche questa pagina del centro per vedere la prima pagina dell'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. In questo caso ovviamente il titolo principale riguarda la morte del carabiniere 42enne sulmonese Emanuele Anzini, ucciso da un ubriaco travolto ad un posto di blocco a Bergamo, dove il carabiniere prestava servizio da diversi anni. Tra l'altro oggi vi proporremo diversi servizi nel corso dell'edizione del nostro telegiornale. Andiamo avanti, poi spostandoci all'Aquila, ecco le prime isole ecologiche e poi ancora Avezzano, multe con il Tired, il Comune vince due ricorsi. Vediamo anche una notizia, un paio di notizie che non riguardano l'Abruzzo, ma sono notizie di carattere nazionale. La prima il papà di Montalbano, Camilleri in ospedale, Andrea Camilleri in gravi condizioni. E poi una notizia di sport, l'addio ufficiale ieri del ormai ex dirigente della Roma Francesco Totti. Lascio la Roma, sarebbe stato meglio morire così l'ex capitano della formazione giallorossa. Vediamo anche un'altra notizia, Santa Croce chiede 3 milioni e mezzo di euro stangata sulla regione, maxi richiesta di risarcimento. Vediamo anche un'altra notizia, in questo caso che ci porta sul Mona, Centrale Snami, Tarboccia, anche i sindaci. Vediamo la prima pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, Medici Petrella verso la radiazione. Il ginecologo Teramano ha più volte contestato il vaccino per l'HPV. E poi Silvi, l'omicida del padre, resta in carcere per il GIP, pericoloso. Poi Prefettura di Teramo, campagna contro le truffe agli anziani. Vediamo anche Giulianova, ceramiche di Castelli lungo il molo. Lasciamo anche questa prima pagina del centro. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città, venerdì di follia in Piazza Marti. Siamo a Teramo, insegue due donne, placcato da un operatore della Team e da un pizzaiolo portato via in ambulanza dalla polizia. E poi riaperti i giardini, Rosetto degli Abruzzi, riconsegnato il parco della villa comunale. E poi palloncini colorati per Daniele Corropoli, ieri funerali a quattro anni dalla scomparsa. Vediamo poi anche un titolo che riguarda Chieti. Chieti, il sindaco di Primio, fa la fine di Brucchi. Si è dimesso, l'abbiamo visto prima, il primo cittadino di Chieti. E poi da giovedì a sabato, numeri record per il secondo forum del Gran Sasso con il premier Conte all'Università di Teramo. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, ovviamente il titolo di apertura riguarda la drammatica morte del carabiniere sulmonese Emanuele Anzini. Sulmona piange il suo carabiniere, la città tonita per la sua morte, travolta e ucciso da un'auto pirata nel Bergamasco, straziante il messaggio della figlia Sara su Facebook. Oggi si terranno i funerali, i funerali di Stato alle 15, nella chiesa di San Panfilo a Sulmona. Vediamo altre notizie. Il delitto di Silvi, di Martino colpito mio padre per difendere mamma, ha convalidato il fermo dell'architetto. E poi ecocompenso, una legge contro la giungla delle professioni, oggi in approvazione in Consiglio regionale. Poi vedremo un servizio. Andiamo a centropagina, la politica pescara consiglio insediato, si tratta per la nuova giunta. E poi l'Aquila blitz degli anarchici a Palazzo Fibbioni in Piazza Duomo, no al carcere duro comune occupato. E poi a Chieti lo strappo politico, di primio raddio dimissioni con accuse a Forza Italia. E poi a Teramo, andiamo in basso, radiato dall'ordine il ginecologo, no vax. Vediamo poi nella parte alta della pagina, fine del sogno. I polacchi smontano i capannoni della Merker e poi i scienziati contesi, Gran Sasso e i cinesi corteggiano i ricercatori dei laboratori. E poi basket, la grande festa dell'amatori pescara per la promozione in Serie A. Pescara che torna nella seconda serie nazionale di pallacanestro dopo 33 anni. Lasciamo dunque i quotidiani abruzzesi relativamente alle prime pagine. Tra poco torneremo a sfogliare insieme le pagine interne del centro del messaggero del quotidiano La Città. Ora vediamo l'edicola nazionale. Iniziamo con il Corriere della Sera. Ecco qui la prima pagina del quotidiano milanese. Sfida l'Unione Europea su salari e tasse. Domani il vertice per la lettera di Conte a Bruxelles. Attacchia di Battista che critica i due vicepremier. Vicepremier Di Maio 9 euro di paga oraria minima. Salvini vuole una manovra trampiana. E poi vedete anche sul Corriere della Sera come su tutti i quotidiani. Ore d'ansia per Camilleri. Le ore più difficili per il 93enne scrittore. Un malore lo ha colpito e è gravissimo. Ricoverato d'urgenza a Roma. La solidarietà sui social. Forza maestro. E poi vediamo anche sul Corriere della Sera. Totti il cuore messo a nudo. Addio polemico alla Roma dell'ex capitano. Vediamo anche Repubblica. L'amicone americano. Il titolo di apertura. Salvini a Washington non incontra Trump. Ma si offre come unico partner italiano affidabile. E vedete la foto del Ministro dell'Interno. assieme al segretario di Stato americano Mike Pompeo. Che tra l'altro è di origini abruzzesi. E poi vedete anche sul Repubblica quanto affetto per Camilleri. Non mollare. Questo è il grido dei tanti ammiratori dello scrittore siciliano. E poi la mia povera Roma senza Totti e con un presidente che non c'è la preghiera di un tifoso. In questo caso di Lucio Caracciolo. Vediamo il messaggero nazionale. Lira di Totti contro Pallotta. No alla Roma senza Romani. Ovviamente il quotidiano romano apre su questa notizia. Sull'addio di Totti alla Roma. E poi salario minimo. Costi record. Di Maio rilancia la tariffa oraria. No di Istat e Oxe. Stancata per imprese e conti pubblici. E poi l'Italia tifa Camilleri. Arresto cardico scrittore in fin di vita. E poi lo schiaffo a Roma. L'idea paese da salvare con la riforma dei musei. E poi Maria il giallo del rogo in auto. In un video la corsa verso la fine. Con lei c'era un uomo. Si continua ad indagare sulla morte di due persone ritrovate carbonizzate all'interno di un'auto. Siamo al mattino di Napoli. I bilanci dell'era dei magistri si incassi flop più debiti e spese. I numeri dal 2011 al 2018. Il rosso è passato da 700 milioni a 1 miliardo e 6. Il caso del disavanzo fuori bilancio. Tributi cala la capacità di riscossione. E poi CSM. Palamara Sirignano le trame sui PM di Napoli. E poi Roma. La ringa di Totti avrei preferito morire. Vediamo anche il manifesto. Governo in alto mare sulla giustizia. E poi Fardelli d'Italia. L'estrema destra è Spugna Cagliari. Il candidato di Fratelli d'Italia. Il nuovo sindaco per un pugno di voti. E poi la stampa di Torino. Salvini si piega all'agenda Trump. Ma chiede sostegno economico per le riforme. Rabbia del Movimento 5 Stelle. Prepariamoci, dicono alcuni pentastellati, al voto anticipato. E poi Giugno Nero. Rischiamo 280 mila posti. Lavoro. Cosa c'è nei 150 tavoli aperti al Ministero dello Sviluppo Economico? Oggi test per 3 mila navigator. Vediamo anche il tempo. Altro quotidiano romano in questo caso. E ora torna. Tra Totti e Pallotta. Va a finire. Come peggio. Non si poteva. Il Secolo.it. Ora presidenzialismo. Parte la mobilitazione di Fratelli d'Italia per la riforma che restituisce lo scettro al popolo sovrano. La petizione del Secolo.it firmata da Fratelli d'Italia. Vediamo il sole 24 ore. Disegno di legge sulla crescita. Il taglio al Cuneo Inail sarà strutturale dal 2023. Questo è il titolo del sole 24 ore oggi in edicola. E poi i navigator donne è per il 73%. Dal sud c'è il concorso. E poi chimica allarme crescita zero nel 2019. Perde colpi. Anche l'export. Vediamo la verità. Il quotidiano che apre in alto. Lo vedete con un'intervista al vicepremier Luigi Di Maio. Lo scandalo del CSM e la P2 del PD. Vicenda raccapricciante. La sinistra ha dato il peggio, dice Di Maio nell'intervista. E poi la sponda americana contro l'Unione Europea. Salvini la paga su Iran e Cina. E poi Lega e Supermeloni. La Sardegna caccia i edem. Cagliari e Alghero strappati ai progressisti. Sassari al ballottaggio. Fratelli d'Italia. Doppia forza Italia. E questo era l'ultimo. Anzi no. C'è anche il quotidiano della conferenza episcopale italiana. L'avvenire non è un flat debito. Conte prepara la lettera di risposta all'Unione Europea. Diremono al primato della finanza. Salvini negli Stati Uniti insiste sul taglio delle tasse. Serve una manovra trampiana. E poi ascoltiamo il grido dell'Amazzonia. È stato presentato l'instrumentum laboris per ottobre. In vista del sinodo da Papa Francesco. E poi riforma no profit. Ferma. Rischio caos sugli statuti. Allarme del forum del terzo settore. Lasciamo dunque l'edicola nazionale. Possiamo tornare ai quotidiani abruzzesi. Ripartire dal centro. Da pagina 2. L'acqua contesa. Vedete il titolo di apertura. Santa Croce chiede 3 milioni e mezzo di danni. Stangata sulla regione Abruzzo. Colella accusa per 90 giorni. Bloccato l'imbottigliamento dalla sorgente Fiugino. Andiamo poi in basso. Bando con oltre 300 mila euro per chi alleva pesci nelle vasche. Come e quando fare domanda alla regione. Poi la BCC Roma nomina Gandolfo e Petitto. Sono i nuovi direttori generale e vice della banca cooperativa del presidente abruzzese. Liberati. Abruzzo sotto shock per la tragedia di Bergamo. Carabiniere ucciso da un ubriaco in auto. L'ha puntato. Emanuele Lanzini era di Sulmona. Travolto ad un posto di blocco a Bergamo. Cuoco arrestato per omicidio volontario. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio. Anche quello del presidente della Repubblica Mattarella vicino all'arma. E poi messaggi dei due vicepremier Di Maio e Salvini. Funerali di Stato nel giorno del compleanno. Oggi Emanuele Lanzini avrebbe compiuto 42 anni. Alle 15 l'addio in cattedrale a Sulmona. È stato proclamato il lutto cittadino. Siamo alla cronaca regionale e alla politica in questo caso. Perché è arrivata, arriva per meglio dire oggi, in aula, in consiglio regionale, la legge sull'eco compenso. Mai più professionisti lasciati al verde dai clienti. L'Abruzzo batte quasi tutte le altre regioni. Oggi infatti, lo dicevamo, approda in consiglio la norma che garantisce le parcelle a ingegneri, architetti, geometri, geologi, avvocati e commercialisti. Anche i 5 stelle determinanti per arrivare al testo finale. Se ne è parlato ieri in una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara presso la sede del Consiglio regionale. Conferenza stampa del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del firmatario di questo provvedimento, di questa legge, il consigliere regionale della Lega. che vediamo qui nella foto Emiliano Di Matteo per la precisione. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio. Sull'eco compenso è l'obbligo del pagare le prestazioni dei professionisti. È una norma che forse solo in un'altra regione abbiamo vista approvata. È frutto del lavoro di sintesi che il Presidente Di Matteo, il Capogruppo Testa e tutti gli altri capogruppi di maggioranza hanno voluto fare con i gruppi di opposizione, in particolare il Movimento 5 Stelle. Ne è uscito un testo moderno, concertato e utile a tutelare le libere professioni che devono vedersi tutelate nel pagamento delle proprie prestazioni. Domani andrà in Consiglio. Siamo certi che verrà approvata l'unanimità e saremo noi una delle regioni in Italia che su questo tema farà giurisprudenza. La concertazione doveva camminare su un duplice binario, da un lato quello politico, quindi abbiamo cercato la massima condivisione possibile in commissione. Da qui la scelta, per esempio, avendo tre testi di legge sul medesimo argomento, di procedere alla realizzazione di un testo unificato proprio per evitare quelle piccole tensioni della primo genitura o dell'appropriazione politica evidentemente della paternità del testo. Di questo ringrazio il Presidente Sospiri, è stata una mia scelta che lui poi ha condiviso e ritengo che poi alla luce di ciò che è accaduto è stata una scelta lungimirante. L'altro binario dove abbiamo cercato la massima condivisione possibile, ed è forse quello ancora più importante, è stato quello di coinvolgere evidentemente tutte le categorie, tutti coloro che da questa legge dovrebbero trarne un legittimo beneficio, che sono le categorie libero professionali. E lì il coinvolgimento è stato massimo, sia nella fase endoprocedimentale delle audizioni, abbiamo provveduto a chiamare tra l'altro non solo le categorie professionali, ma anche l'associazione dei consumatori, quindi pensando al cittadino, e il CAL, il Consiglio dell'autonomia locale, pensando alle autonomie locali. Quindi crediamo di aver audito un pochettino tutte le parti in causa. Andiamo avanti, oggi il convegno più facile, vedete il titolo, l'accesso nell'era social per i bandi europei. Poi parliamo di terzo settore, perché Di Stefano è il nuovo Presidente dell'Ampas. Proseguiamo, gli effetti del reddito di cittadinanza alle imprese, 780 euro per 18 mesi, il dossier in Abruzzo è un cittadino su 5, a rischio povertà, ma il Presidente dell'Inps spiega tutti i vantaggi di chi assume. Approvata la delibera di giunta sui bolli auto da pagare a rate, il recupero delle tasse non versate, poi garante dei detenuti, riesplode lo scontro, Di Benedetto della lista Lenini chiede subito la nomina, smargiassi del 5 Stelle in 5 anni. Voi non lo avete fatto, ha ribattuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, dal nuovo vertice del centro-destra, che però non è riuscito a partorire la nuova giunta, anzi la fumata è stata nera, sale l'attenzione tra i partiti, le richieste superano i posti disponibili, problemi anche per la scelta delle donne. L'accordo è ancora lontano, il Sindaco Masci però avverte, voglio chiudere entro sabato, corsa contro il tempo per nominare gli assessori prima del Consiglio, ma non sarà semplice. E poi alloggiate, sfratti per chi commette reati, Blasioli a Masci, servono fondi, dice il consigliere regionale ed ex vice sindaco di Pescara. La proclamazione degli eletti, ieri c'è stata a Pescara in comune, a Palazzo di Città, entrano in 32, le donne sono solo 6, piccole modifiche dopo il riconteggio dei voti, perché Andrelli ha preso il posto di D'Angelo in Pescara Futura, ma di Pietrantonio, il coordinatore cittadino del PD con testi risultati, ci spettano 5 consiglieri e non 4, facciamo ricorso al tale. Allora vediamo quali sono i 32 nuovi consiglieri comunali di Pescara, partiamo dall'alto, dalla Lega, con Vincenzo Dincecco, che è stato il più votato a Pescara, poi Marcello Antonelli, Gianni Santiglia, Delchi Sulpizio, Maria Rita Carota, Maria Luigia Montopolino e poi Salvatore Di Pino, Armando Foschi, questi tutti consiglieri della Lega. Poi per Forza Italia l'ex sindaco Luigi Albo Remascia, Manuela Peschi, Eugenio Seccia, Claudio Croce, Roberto Renzetti, questi i consiglieri di Forza Italia, per Fratelli d'Italia, riconfermati Alfredo Cremonese, Fabrizio Rapposelli e Massimo Pastore, e poi Pescara Futura con Adamo Scurti e Sabatino Andreelli, assieme all'ex vice sindaco di Pescara Bernardino Fiorilli, che però è della lista Amare Pescara. Per l'Udc è stato eletto il consigliere Massimiliano Pignoli, e poi per il centro-sinistra il PD, Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, e poi Giovanni Diacovo, Pescara Città Aperta, Mirko Frattarelli, sempre del centro-sinistra, lista per Sclocco, e poi per il Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere, Massimo Di Renzo, ed infine Carlo Costantini, che era il candidato di alcune liste civiche, riunite sotto la sigla Facciamo Grande Pescara. Questi i 32 consiglieri comunali, i nuovi consiglieri comunali, che sono stati proclamati ieri dal presidente della Commissione, Angelo Bozza. Andiamo avanti. I dipendenti delle terme, riaprite, abbiamo paura, siamo stati abbandonati, venerdì consiglio d'urgenza a Caramanico, la rabbia dei lavoratori, il PD dice fuori soldi. Salviamo la stagione, ieri conferenza stampa a Pescara, andiamo a sentire le parole dell'ex sottosegretario all'Aggiunta regionale, Mario Mazzocca, oggi consigliere comunale di minoranza a Caramanico. Vediamo. C'è la possibilità concreta, a costo zero, di attivarsi come responsabilmente un'istituzione deve fare, la regione deve fare questo passo, non c'è altro tempo da attendere. Ormai la stagione 2018-2019 è già andata un po' troppo avanti per essere recuperata. 192 dipendenti, senza contare tutti i lavoratori dell'indotto e quelli che comunque in maniera più o meno diretta o diretta gravitano nel comprensorio sull'attività termale. Noi chiediamo quattro cose alla regione che attivino in maniera immediata questa possibilità di sperimentare la riabilitazione termale utilizzando ad hoc sia il budget non speso, quindi a costo zero per il sistema sanitario nazionale, e sia per quanto attiene alla residenzialità il fondo di 900 mila euro stanziato dalla legge di stabilità regionale disponibile, così come la regione deve attivarsi il più breve tempo possibile a assegnare i fondi di un milione di euro e secondo l'otto delle piscine termale anche questi disponibili, che si sono resi disponibili nelle scorse settimane, perché comunque è un pezzo importante dell'indotto. Così noi riusciremo a salvare sia la stagione, nonostante sia andata già troppo in là, ma soprattutto avremo comunque un termine immediato su cui poter poi continuare a lavorare. Parliamo di cronaca giudiziaria, palti pilotati, libro mastro delle tangenti, ecco i pagamenti all'ex presidente ACA, le motivazioni della sentenza di condanna a otto anni inflitta dal tribunale Aezio Di Cristoforo, decisive le dichiarazioni dell'imprenditore D'Alessandro, falsi esame universitari, ex prorettore in aula, Sargiacomo testimone il primo luglio al processo per corruzione che vede imputato l'ex sindaco di Manfredonia. Cronaca, area di risulta di Pescara, ieri altra aggressione davanti al mercatino etnico. E poi, toga d'oro agli iscritti da più di 40 anni, una vita da avvocato. Ciprietti guida la lista dei 21 decani del foro di Pescara che vedete nella foto. Appello a comune e regione, malata di SLA, vive reclusa in casa, troppi ostacoli, non posso uscire. Questo è il dramma della giornalista Paola Mastrangelo. Mi sento in prigione, condominio senza montascale e carrozzine determinate denuncia intorno alla sua casa, ai colli. E' pieno di barriere architettoniche. Siamo a Montesilvano, come per Pescara, ancora un rinvio per la nuova giunta. Pesa proprio l'attenzione che a livello politico si respira nel capologo adriatico. Lega e Forza Italia non riescono a trovare un'intesa sulle poltrone. Da spartire, Masci e De Martini, si destini incrociati dei due sindaci di Pescara e Montesilvano, in attesa di un accordo. Ancora Montesilvano, perché gestivi via Libera, vedete questo titolo di spalla, Stella Maris e via Ungheria, accordi con provincia e costruttori. Siamo a Città Sant'Angelo, manifestazioni estive, mai usati i soldi delle casse comunali. Il capo dell'opposizione Melchiorra replica le accuse del vice sindaco. Avevamo gli sponsor. Tornando a Montesilvano, sabato ci sarà la notte bianca dei libri. Vediamo poi a centropagina, Città Sant'Angelo ha un nuovo parroco. Questa sera la cerimonia di insediamento di Don Lorenzo Di Domenico. Ci sarà anche l'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Spoltore, vedete in basso, venerdì in Piazza Unione, la prima giornata ecologica. Francavilla apre Old Wild West, verranno assunte 35 persone. La sede del nuovo ristorante, specializzato in Burger Stick House, si trova sulla Nazionale Adriatica. Andiamo a Cepagatti, dove Cepagatti unita e controattacca il sindaco Cantò, ancora spese per i cittadini. Siamo ancora alla cronaca dalle province, parliamo proprio di provincia, di strade provinciali, perché sono in arrivo lavori per 17 milioni di euro. Il presidente Antonio Zaffiri della provincia di Pescara ha presentato ieri il programma di interventi, manutenzioni, asfalto, messa in sicurezza e sfalcio delle erbacce, che non veniva effettuato da quattro anni. Dunque ci sono i fondi per migliorare il manto stradale, per riportare ad un certo decoro le strade della provincia di Pescara, 660 chilometri in totale, come detto in arrivo 17 milioni di euro. L'annuncio ieri in conferenza stampa proprio da parte del presidente della provincia di Pescara, che andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio. La situazione non è bella, lo sappiamo tutti, siamo coscienti della situazione reale delle strade. Lo sfalcio delle erbe è uno dei problemi. Il problema è la viabilità, il fondo stradale, che adesso partiranno dei lavori su tutti i 660 chilometri delle strade provinciali, proprio per ripristinare il minimo della sicurezza. E quindi sotto il profilo della pavimentazione ci saranno massicci interventi e sotto il profilo dello sfalcio delle erbe, come sapete già, la regione Abruzzo ha stanziato dei fondi per le quattro province, dove dobbiamo ovviamente anche lì aumentare la sicurezza, perché la visibilità è ridotta all'omicino, ma perché soprattutto è da quattro anni che non si effettuava lo sfalcio delle erbe sulle nostre strade provinciali. Quindi capite benissimo in che stato oggi sono le erbe lungo le strade provinciali. Per quanto riguarda invece la manutenzione stradale di cui parlava, quanto costeranno questi lavori? Beh, questi lavori, allora vi dico subito, sono 12 milioni e 6 derivanti, sono stati sbloccati dal Presidente Marsiglio il 29 di marzo di quest'anno con la rimodulazione delle convenzioni. Poi abbiamo altri fondi per quanto riguarda gli interventi più massicci, più strutturali, se posso usare questo termine, che sono le frane. Oltre ad avere 4 milioni e 2 per quanto riguarda i danni del 2017 sulle strade provinciali. La firma dei consiglieri regionali della provincia di Pescara, del Presidente del Consiglio, noi abbiamo voluto, abbiamo una sensibilità particolare nei confronti delle province, nei confronti di un tema importante come lo sfalcio delle erbe. Io, anche da ex Presidente della provincia, so quanto possa essere importante per un ente ricevere un contributo che vada a risolvere un problema concreto come quello lo sfalcio delle erbe nel periodo estivo e quindi noi abbiamo utilizzato solamente un concetto di razionalità, siamo stati, abbiamo avuto la schiena dritta, abbiamo pensato alle cose utili per il nostro territorio. E penso che questo contributo che sappiamo non va a risolvere i problemi di ogni provincia, però dà un minimo di ossigeno importante. restiamo in provincia di Pescara, dall'anno partecipa al bando, sparisce il documento, esclusa dall'elenco componenti, organi amministrativi, ha presentato un esposto in procure, poi in basso lo sport, amichevole gemellaggio con il lanciano per la neosocietà Scafa, passo Cordone. Siamo alla pagina di Chieti, la crisi in comune, addio tra le polemiche, di primio firma la resa, no ai ricatti, mi dimetto, il sindaco scaricato dalla maggioranza cede, non ha più i numeri per governare, più avanti vedremo un servizio, vediamo poi in basso invece San Salvo, è morto l'artigiano che era stato ritrovato a San Salvo, Bertuzzi scomparso da Piacenza, vittima di un incidente, il suo camper distrutto dalle fiamme a Travo. Tornando alla vicenda del comune di Chieti, il declino del sindaco, nove mesi di liti e veleni, ecco le sconfitte decisive, secondo questo articolo del quotidiano, il centro e a Bucchiani, con paese in piazza per l'addio a Daniele, folle funerali del giovane morto in moto, l'ultimo saluto con fuochi d'artificio e palloncini. Siamo alla pagina di Teramo del centro, la lotta ai Novax, imminente la radiazione di Petrella, e poi mobilità passiva e lunghe file, i punti critici della sanità, se ne è parlato nel comitato ristretto dei sindaci, e poi pavimento in ceramica per il Molo Sud, siamo a Giulianova, al porto di Giulianova, la passeggiata sarà abbellita da mattonelle, realizzate dai maestri di Castelli. Volantini nelle chiese alle poste, truffe agli anziani al via la campagna, casi in costante aumento, i consigli di prefettura e provincia di Teramo, per non cadere nei tranelli. E poi la politica, ad Alberto, i sindaci scriveranno le norme per la ricostruzione, la replica alle accuse del Movimento 5 Stelle. E sempre a Teramo, ci sarà il Premier Conte al Forum sulla prevenzione, organizzato dalla Curia e dall'Università di Teramo. L'omicidio di Silvio, arresto convalidato, il GIP di Martino, deve restare in cella per il giudice, l'uomo che ha ucciso il padre, è pericoloso, gli inquirenti dubitano che volesse difendere la madre. Vediamo poi in basso, processo Santoleri, chiesta una perizia per Giuseppe, la difesa vuole accertare la capacità di intendere e volere per Simone, valutare il vissuto. Vediamo anche la cronaca dell'Aquila, il problema dei rifiuti, arrivano le prime due isole ecologiche, l'assessore Taranta in via sperimentale, saranno posizionate a San Domenico e al Torrione, funzionano con una tessera in basso, De Amici se non strappo il patto con la città, il maestro replica alle accuse dell'opposizione sulla sua nomina, a direttore della perdonanza. Ancora l'Aquila, anarchici mettono in subbuglio il centro città, e poi si ribalta il trattore sfiorato alla tragedia, alla guida un ex dipendente comunale, rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. E poi Snam, il Tar non blocca il progetto, Sulmona bocciato pure il ricorso dei sindaci, Casini, sindaco di Sulmona, si appellerà al Consiglio di Stato. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci per qualche istante, al termine di questa prima parte di Mattino 6, poi torneremo in studio tra pochissimo, per leggere insieme gli altri quotidiani, in particolare il Messaggero e il quotidiano, la città. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, nuove povertà, i dati dell'Inps, reddito di cittadinanza, vedete un boom che preoccupa, in Abruzzo domande a quota 30 mila, impietoso il confronto con il Friuli-Venezia-Giulia, e poi in basso, lavoratori a spasso, alberghi chiusi, Caramanico dice addio alle terme, abbiamo visto prima il servizio, il PD accusa i soldi ci sono, la Regione non spende. Pagina di Pescara, il Consiglio c'è scontro sulla Giunta, annullate nove preferenze a D'Angelo, che cede lo scranno ad Andrelli, capolista di Pescara Futura, farò ricorso, dice D'Angelo, nell'esecutivo avanzate richieste per sette uomini e cinque donne, spaccatura nella Lega, Masci vuol chiudere. Entro sabato, Catalano e Dincecco, oltre mille voti, che sorpresa. Esami comprati, il cardipro sciolto sul test d'inglese, la sentenza del GUP alleggerisce la posizione del sindaco pugliese, i testimoni, matematica verbalizzata, mesi dopo. Terre di nessuno, bottigliate fra nigeriani, vicino al mercato etnico a Pescara, poi toga d'oro dell'ordine di Pescara, dell'ordine degli avvocati, per 21 legali, Ciprietti e il decano in aula, da 45 anni. E poi la richiesta di tanti appassionati delle due ruote, della FIAB, ma non solo, Pescara di Venti, città a misura di ciclisti e pedoni. Fabbrica smontata, fine del sogno Merker, la proprietà polacca, avviato la demolizione dei capannoni di Tocco Casauri, macchinari e produzione saranno trasferiti, Francavilla, Old Wild West, apre e assume 35 persone. Poi sfalci, asfalto, riparazione frane, cura da 12 milioni per le strade della provincia di Pescara. L'annuncio ieri da parte del Presidente Antonio Zaffiri, anche in questo caso abbiamo visto prima il servizio. E poi Montesilvano, giunta, si tratta fino a questa sera, Forza Italia Udc, vogliono due posti, come per Pescara, anche per Montesilvano, si continua a lavorare per la nuova giunta comunale. L'Aquila protesta contro il carcere duro occupato il palazzo comunale, blizze di una trentina di giovani anarchici. E poi, Di Cosimo, rivelazioni sulla scorsa perdonanza. E poi, a centro pagina, commenti dopo l'intervista le iene, Pellegrini assolta. Depuratore sequestrato, liquami nel raio e allarme. Andiamo avanti, ex De Amici se deciderà il Consiglio di Stato, il provveditorato alle opere pubbliche è pronto al ricorso per contrastare la sentenza del TAR che ha sospeso i lavori. Poi, la ricostruzione ai lavoratori degli uffici speciali indennità più alte. E poi, la protesta convinto a rischio chiusura, CGL preoccupata. E poi, l'evento L'Aquila e il bello della musica fa tappa in città a fine giugno. Eccellenze, occhi e nuove tecnologie. Ecco i rimedi. L'oculista aquilano Genitti tra gli esperti sulle nuove cure della vista. In basso, teatro, Tiziana Gioia vince il festival del monologo. Lions Club, il maestro Brattini dona opere alla città. Emanuele, proclamato il lutto cittadino. Siamo a Surmona oggi alle 15. funerari in forma solenne per il carabiniere morto ieri notte in provincia di Bergamo, ucciso da un pirata della strada. Lo straziante messaggio su Facebook di Sara, la figlia 18enne, studentessa dell'Istituto Tecnico, ti hanno strappato via da me. Ciao, pa. questo è il messaggio della figlia del carabiniere Emanuele Anzini che proprio oggi avrebbe compiuto 42 anni. In Valle Peligna tornava non appena poteva il ricordo degli amici. Andiamo più in basso, Avezzano, Sanità, Blizzi, Marsica dell'assessore Verì e poi incontro cordiale tra De Angelis e Passerotti, il nuovo commissario del comune di Avezzano e poi Opi, abitazione a fuoco ustionato un anziano e poi ancora Avezzano rissa tra tre donne e due uomini denunciati. Vediamo anche la pagina di Chieti del messaggero. L'apertura ovviamente è dedicata al terremoto politico a Chieti a Palazzo di Città. Non si può trattare con i ricatti per di primio l'addio al vetriolo. I consiglieri di Forza Italia hanno disertato la seduta di ieri del Consiglio. Ritirato il bilancio ora la città rischia di dover rinunciare a opere pubbliche per 30 milioni di euro. Ieri il duro giacus del sindaco di Chieti di Primio accuse tutt'altro che velate a Forza Italia i cinque consiglieri comunali che non si sono presentati in aula non accetto i ricatti così ha detto senza mezzi termini il sindaco di Chieti Umberto di Primio che si è dimesso ora arriverà un commissario a meno che entro i 20 giorni non dovessero essere ritirate le dimissioni e nel prossimo mese di maggio a Chieti si tornerà al voto. Allora andiamo a vedere il servizio su quello che è accaduto ieri nel capoluogo Teatino Non senza malezza dunque assumo questa decisione perché mai impiegherò ai vecchi riti della politica mai potrò accettare l'insidienza di una classe dirigente che non ha avuto a cuore il bene comune ma ha guardato a quello particolare men che meno posso pensare di accettare l'abilità di chi si nasconde dietro un dito e tira piedi. Il sindaco di Chieti Umberto di Primio si è dimesso l'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una affollata conferenza stampa dopo aver convocato una riunione di giunta nel mirino del primo cittadino sono finiti cinque consiglieri comunali di Forza Italia che non si sono presentati in aula questa mattina nel giorno in cui il Consiglio Comunale avrebbe dovuto votare il bilancio Non si tratta di sconto si tratta di senso di responsabilità ci sono delle richieste che noi abbiamo soddisfatto alcune che non sono soddisfacibili e non c'è però possibilità di trattare con il ricatto siccome loro sono manovrati da qualcuno che dietro dice di camminare di comandarli tant'è che oggi giustamente non sono venuti in Consiglio Comunale ma io non sono uno che si fa certo comandare ho deciso che non ci sono più le condizioni per andare avanti quindi ho rassegnato le mie dimissioni da sindaco il centrodestra perde una grande occasione cioè quella di fare pulizia al proprio interno togliendo via delle logiche che non possono appartenere a persone serie io credo di aver fatto tutto quello che potevo credo di aver dato a questa città tutto quello che avevo in me tempo amore passione credo di aver dato anche progetti finanziati e non chiacchiere come fa qualcuno noi abbiamo 37 milioni di opere finanziate che cambieranno il volto di questa città mi dispiace per coloro che subiscono i danni dalla mancata approvazione del bilancio lo subiranno i lavoratori innanzitutto di quelle società che tanto si volevano difendere perché senza bilancio ovviamente anche lì ci saranno problemi subiranno ovviamente un contraccolpo le tante ditte che aspettavano da due mesi la giunta ha approvato il bilancio il 18 di aprile oggi il consiglio non è ancora in grado di approvarlo ovviamente questo comporta un danno per le ditte perché non abbiamo soldi da poter dare loro perché non c'è il bilancio mette a forte rischio per alcuni casi già ahimè spirato il termine alcuni finanziamenti che abbiamo avuto che sono finanziamenti per il dissesto ideologico non per la sagra delle Marroc ma insomma voglio dire di fronte i latini avrebbero detto ad impossibilia ne motenetur io dico la stessa cosa cioè di fronte all'impossibilità di far ragionare chi pensa al particolare e non ha a cuore la comunità che è quello che noi abbiamo avuto a cuore in tutti questi anni io non posso far nulla io non mi faccio piegare dal ricatto di qualcuno che dice o è così oppure oppure lo risolvo io il problema oppure tutti a casa perché me ne vado io perché nessuno si può permettere di rivolgersi a me con l'aria minacciosa ricattatoria che ha usato qualcuno a questo qualcuno cosa vuole dire? ma io penso che glielo ho già scritto mi sono dimesso dunque le dimissioni del sindaco di Chiedi di Primio lo dicevamo qualche istante fa spunta l'ombra del commissario qualora non ci dovesse essere un ripensamento dunque ci sarà per un anno poco meno il commissario a Chieti prima delle nuove elezioni andiamo nella parte bassa della pagina forza fratelli d'Italia e Lega difendono però il sindaco Umberto Di Primio l'opposizione in calza restiamo a Chieti al Barbella l'arte di Le Donne Antonini fino a giovedì e poi a Bucchianico piazza in lacrime fra Palloncini e Colombe per l'addio a Daniele Saraulo il giovane di 24 anni morto dopo uno schianto in moto sabato notte andiamo avanti monumento ai caduti via al macchiage siamo a Lanciano c'è un finanziamento di 60 mila euro del governo è pronto il progetto da parte della soprintendenza e poi allarme in 57 comuni esche ratticide manomesse la Ecolan atto gravissimo a Vasto ritrovata nella zona della Marina colonna di epoca romana e poi ancora a Vasto stop ai cannabis shop indagati tre proprietari Ortona il comune mette in vendita gli immobili per fare cassa siamo alla pagina di Teramo del messaggero laboratorio del Gran Sasso i cinesi vogliono gli scienziati questo è il titolo di apertura e poi sanità radiato dall'ordine il ginecologo Petrella no Vax in basso ultimatum alla Team assemblea subito e poi l'allarme sventato a Roseto minaccia di suicidarsi con la sparachiodi viene e poi convinto a desistere dalle forze dell'ordine gli amici difendono Simone Santoleri le difese siamo al processo per la morte della pittrice Rapposelli le difese chiedono una perizia sulle capacità di intendere e di volere e poi Silvi Di Martino resta in carcere conferma ho cercato di difendere mia madre l'uccisione del padre Giovanni confermato che la donna aveva intenzione di separarsi Giulianova viola di idea i perché della nostra sconfitta è ancora Giulianova niente globo ma la più grande farmacia d'Abruzzo Martinsicuro sosta a pagamento spiaggia affollata infine ceramiche di castelli decoreranno il muro il pavimento del molo sud del porto di Giulianova siamo arrivati allo sport dobbiamo però andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo da pagina 3 il sindaco Di Primio fa la fine di Brucchi questo è il titolo che fa il parallelismo con l'ex primo cittadino di Teramo Di Primio si dimette e cita il precedente Teramo dare spazio a chi ricatta porta inevitabilmente alla sconfitta e poi nuovi incentivi per le assunzioni di personale nelle grandi imprese arriveranno fondi con proprio grazie ad una linea del fondo sociale europeo che prevede l'erogazione di contributi alle grandi imprese e poi in basso carabinieri di Sulmona travolto ed ucciso da un'automobile Emanuele Anzini di Sulmona morto l'altra notte a Bergamo oggi lutto cittadino a Sulmona funerali di stato alle 15 nella cattedrale di San Panfilo città insicura siamo a Teramo un venerdì notte di follia in piazza Martiri da Di Matto in segue due addette alle pulizie viene bloccato da un addetto della Teramo Ambiente da un pizzaiolo e poi portato via in ambulanza in basso occhio le truffe sono aumentate del 13% scatta la campagna di sensibilizzazione nei confronti degli anziani e poi d'Alberto contesta la norma sui palazzi fattiscenti non è chiaro dice il sindaco a chi andranno in carico le spese per la messa in sicurezza degli edifici in evidente stato di degrado andiamo a vedere anche pagina 7 serve un nuovo decreto sisma d'Alberto con i sindaci cianci ricorda le promesse del sottosegretario crimi sul nuovo testo unico e Berardini parlamentare del Movimento 5 Stelle prosegue nel giochetto al rimpallo da come leggiamo in questo titolo del quotidiano la città sempre a pagina 7 numeri record per il forum Gran Sasso la seconda edizione in Ateneo dal 20 al 22 giugno previsti 250 esperti 14 sessioni il premier Conte ed il ministro Bussetti Di Stefano nuovo presidente dell'Ampas il poliziotto Terramano già presidente della Croce Bianca è stato eletto a capo dell'organizzazione regionale di volontari e poi lutto nello sport Terramano addio a Goffredo Ferrante papà dello sci Terramano nuovo polo scolastico aperto a tutti i cittadini Tortoreto va avanti la realizzazione condivisa della struttura sabato scorso il workshop di progettazione al Salinello Santomero paloncini colorati per salutare Daniele Tadde ieri funerali del giovane trovato senza vita a 4 anni dalla scomparsa alba driatica carambola tra due macchine una moto incidente nei pressi del gatto pardo motociclista finisce in ospedale poi l'avvertenza Mercatone 1 l'assessore regionale Febbo annuncia TFR in arrivo per i dipendenti siamo alla pagina di Giulianova Giulianova le dimissioni di Viola diventano un caso la lista idea dietro la decisione le critiche ricevute dopo l'esito del ballottaggio soddisfazione del comitato per la posizione della regione sull'ospedale unico e poi ceramiche di Castelli lo abbiamo visto anche prima per abbellire il Molo Sud di Giulianova l'omicidio della pittrice Renata Rapposelli l'amico parla in aula Simone innocente il figlio di Renata Rapposelli lacrime durante la testimonianza di Stefano Lalloni nell'udienza di ieri Simone si è fatto da sé ha avuto un'infanzia difficile i genitori non lo hanno preso in considerazione questa è la testimonianza dell'amico ieri in aula andiamo avanti paricidio a Silvi il giudice non crede alla versione del figlio convalidato l'arresto dell'architetto Giuseppe Di Martino che per il momento deve restare in carcere bombola del gas e bruciatore sulla spiaggia libera di Cologna questa la segnalazione che è arrivata ieri anche alle forze dell'ordine poi Roseto prova ad uccidersi con la sparachiodi salvato da carabinieri e polizia siamo arrivati alle pagine dello sport ma prima di parlare di sport regionale vediamo le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ovviamente tutti i titoli riguardano i titoli più importanti l'addio di Francesco Totti da dirigente alla Roma Totti il suo addio atto d'amore e d'accusa speravo di morire questo è il titolo del corriere dello sport la gazzetta Totti quanti schiaffi la Roma mi hanno pugnalato poi vedete in alto Sarri Revolution è pronta la rivoluzione del neotecnico bianconero alla Juventus e poi tutto sport Totti liberate la Roma e poi Sarri viva Sarri giovedì allo stadium la presentazione ufficiale del neotecnico e poi i mondiali di calcio femminile questa sera alle 21 Italia Brasile la storia vi aspetta titola giustamente tutto sport andiamo a vedere le pagine sportive dei quotidiani locali ripartiamo dal centro Totti lascio ed è come morire anche il centro parla dell'addio dell'ex capitano giallo-rosso alla Roma mercato il Milan su Veretò piace anche Mario Rui e poi mondiali donne come dicevamo alle 21 questa sera Italia-Brasile vale sempre la storia del calcio e siamo alla pagina del Pescara Pescara proiettato al mercato c'è l'idea Pierini il Parma vuole Canutele DS Bocchetti sulle tracce di Bonazzoli della Sampdoria nell'ultimo campionato al Padova Lupo delfino ambizioso farà un torneo di vertice il neodirettore sportivo del Venezia il pescarese Fabio Lupo con i lagunari per tornare in Bizzauri Sebastiani ha fatto una scelta coerente ha detto Fabio Lupo siamo alla pagina del Teramo Tagoredo Enzola nel mirino del Teramo Celli verso l'addio piacciono in mediano la punta del neopromosso Trapani centro pagina arbitri Camplone pronto a fare il salto in vino d'ora di promozione anche Ruggeri dall'eccellenza saliranno i fischietti Di Sante Marolli e Dagnillo vediamo anche la prossima pagina che è quella relativa alla vittoria dell'amatori Pescara delle Final Four di Montecatini Raiola il miracolo della 2 stento ancora a crederci e poi l'acqua e sapone dopo aver mancato il tricolore nella finalissima con Pesaro cambia Cuzzolino va al Valencia ballottaggio in panchina tra Bellarte e Marin andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero Pescara prepara i primi suoi colpi l'esterno Ciciretti nel mirino in attacco a punta Elizalde verso la Juventus con altri giocatori che potrebbero entrare nelle trattative con la formazione bianconera il Bologna e la Sampdoria su Ginella e con il Trapani intanto la nuova Serie B e al completo Serie B che dalla prossima stagione è il caso di dire meno male tornerà a 20 squadre calcio a 5 addios acqua e sapone Cuzzolino passa agli spagnoli del Levante andiamo a vedere la pagina che riguarda il Teramo il Teramo a Proietti resta ancora qui dopo Celli ecco la nuova offerta la quale serve la mediazione del Pescara che è titolare del cartellino Maurizzi esonero o risoluzione del contratto questo il possibile scenario in chiave tecnica parliamo ancora di calcio l'Aquilano Marco Ianni il vice di Sarri alla Juventus continua il sodalizio con il trainer dopo trainer neo bianconero Maurizio Sarri dopo Napoli e Chelsea vediamo altre notizie di calcio Lanciano Cellucarino pressing su Dos Santos e poi l'Aquila settimana decisiva per l'ingresso in società del presidente del patron della San Benedettese Fedeli andiamo a vedere anche le pagine dello sport del quotidiano la città in primo piano possiamo anche inquadrare questo titolo che riguarda il Teramo perché Teramo e Maurizzi prossimi al divorzio se ne è parlato anche nei giorni scorsi la società del neopresidente neopatrone Iachini vuole rescindere con l'allenatore visto che ha già in mano il suo erede che è Bruno Tedino sul piatto però di questa situazione ancora da risolvere i due anni di contratto che il tecnico romano aveva con il club Bianco Rosso a quanto risulta non è stato ancora contattato e questo potrebbe essere un elemento importante nella vicenda possiamo andare a leggere uno stralcio dell'articolo del nostro Jacopo Forcella nelle prossime ore dovrebbe essere in sede a Genore Maurizzi a cui verrà comunicata la volontà di risolvere il contratto che scade tra due stagioni il tecnico ha vissuto lontano le ultime vicissitudini riguardanti la società è andato in vacanza a salvezza acquisita e ha continuato a ripetere di voler ascoltare la voce della dirigenza per capire meglio il suo futuro di certo avrà anche letto che il diavolo ha già scelto il suo successore Bruno Tedino e questo certamente non gli avrà fatto piacere e dunque bisognerà vedere come finirà questa storia tra il Teramo e Maurizzi Maurizzi che come abbiamo letto anche da questo titolo ha ancora due anni di contratto con la società Biancorossa che però ha scelto Bruno Tedino come nuovo allenatore per la prossima stagione tra l'altro il Teramo dovrà ancora capire se verrà inserito nel girone B o nel girone C del campionato di serie C girone C che vede vedrà il via la prossima stagione delle vere e proprie corazzate tanto per fare due nomi Bari e Foggia lasciamo il calcio finali nazionali under 17 di pallamano Lions Teramo al dodicesimo posto e poi pesca sportiva la nona edizione è quella dei record oltre 200 partecipanti provenienti da 13 nazioni hanno partecipato al trofeo internazionale di surf casting catch and release organizzata a Alba Adriatica e Tortoreto vediamo anche l'altra pagina di sport del quotidiano La Città di Giulio Maria festeggio i suoi primi 40 anni per il cestista ex Roseto e Campli e il momento dei bilanci tra famiglia basket giocato ed altri progetti infine l'atletica leggero con la Gran Sasso femminile promossa nella finale a Argento seconda nella finale di Bronzo di Orvieto Gaia Sabatini la trascinatrice ottime prove anche per Giuliant Bilanzola e Montanaro complimenti dunque all'atletica Gran Sasso noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 io ringrazio il nostro regista Loris Benato ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento per quanto concentra l'informazione della nostra rete come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 vi ricordo anche le altre edizioni delle 19 e delle 23 è davvero tutto grazie per averci seguito un buon proseguimento di giornata con i programmi di TV6 buona giornata grazie a tutti